Allora, con noi è Luca Sordelli che ci spiega come funziona lo stampo per occhiali, come si stampa l'occhiale. Allora, lo stampo per occhiale è formato da due parti che vengono montate su una pressa iniezione e abbiamo un'entrata del materiale che riempie poi tutta la cavità dell'occhiale e alla fine il frontale o la stina o il terminale o la parte. Ecco, il frontale poi va impresso, giusto? Come funziona? Sì. È quello che abbiamo visto prima. Quello che abbiamo visto prima stampare. Per ogni modello c'è uno stampo diverso. Sono quelli accatestati in quello scaffale.